Ok, che è un grande albergo, 5 stelle, è un gran lusso, è molto lusso, oggi è un albergo però, si chiama l'albergo dei rei cattolici, perché? Perché è stato costruito dai rei cattolici alla fine del XV secolo, pensate che oggi giorno è un albergo, però nasce come un ospedale, pensate... Sì, era ieri notte qui. E state anche voi qua cantando? No, qui si stavano mettendo un mare, se la suonavano. Ok, allora, pensate che quando arrivavano i pellegrini una volta 500 anni fa, non era come oggi, oggi forse vediamo pochi pellegrini, perché siamo già a novembre, sta piovendo, il tempo non è buono, però diciamo bene, c'è la polizia in giro sempre, ci sono gli ospedali dappertutto. E pulita, abbiamo l'internet, il telefonino, i soldi in giro... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oggi invece si chiediamo molto poveri. Ecco, pellegrini. De donde? Italia, Italia. Italia, ah. Bravi italiani? Sì. Bene. Da dove sei dall'Italia? Da Genova, Liguria. Genova. Noi della Sardegna siamo qui. Ben arrivati. Grazie. 800 chilometri. 800, sì, sì. Sì, certamente il cammino francese. Il cammino francese tutto. Andate ad abbracciare Santiago. Grazie. Grazie a tutti. Pede, pede. 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 grazie